Buonasera e benvenuti a questa seconda lezione di storia che fa parte del ciclo di incontri organizzato da Mondadori Education, ciclo che proseguirà fino a maggio 2021. Questa è la seconda delle 15 lezioni previste per ora. Due informazioni tecniche prima di introdurre velocemente il relatore di questa sera. Ricordo che a fine lezione ci sarà tempo per rivolgere alcune, speriamo tante delle domande che sicuramente arriveranno dagli ascoltatrici, dagli ascoltatori, dai docenti. Ricordo inoltre che nei prossimi giorni sarà disponibile da subito l'attestato di partecipazione alla lezione di questa sera. E anche il materiale didattico, che vuol dire sostanzialmente le slide del professore, della lezione, accompagnate da una scheda didattica di attivazione con delle proposte, dei suggerimenti, dei percorsi per un eventuale uso a scuola, in classe. Ricordo infine che la lezione resterà disponibile nel canale YouTube dell'editore e che i partecipanti che non potessero assistere ora avranno tempo fino a questa sera, questa notte, per poter vedere la lezione. A questo punto direi che è meglio introdurre immediatamente il professore Adriano Roccucci. Eccolo. Buonasera professore, buonasera Adriano. Adriano Roccucci insegna storia contemporanea a Roma 3 e sta direttore della rivista della Società Italiana per lo studio della storia contemporanea, cioè il mestiere di storico fino all'anno scorso. È membro del comitato scientifico della rivista Limes, fondata diretta da Lucio Caracciolo, rivista con la quale collabora da molto tempo, dagli anni 90. è membro del board editoriale delle riviste come Memoria Ricerca e di altre riviste di storia come Memoria Ricerca e soprattutto per Mondadori Education ha firmato un manuale insieme a Lucio Caracciolo, un manuale di storia contemporanea che vedete ecco in sovrimpressione dal mondo europeo al mondo senza centro per i tipi di le monie università. Il professor Roccucci si è occupato di molti temi, si è occupato di storia d'Italia, della crisi dello Stato liberale dall'età giolitiana fino al fascismo, si è occupato anche però di storia russa contemporanea, si è occupato di politica estera sovietica, di temi molto interessanti come il rapporto tra la religiosità e la nazionalità nel mondo sovietico e nell'Europa centro orientale. La lezione di questa sera sarà dedicata alla prima guerra mondiale, io direi che lascio immediatamente la parola al professor Roccucci, ci vediamo dopo per le domande. Grazie, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano, mi permetto solo di dire all'inizio di questa lezione il mio ringraziamento a Duccio Canestri, Aaron Buttarelli che è il direttore editoriale di Mondadori Education per l'opportunità che mi è stata data di questa lezione. Infatti sono particolarmente lieto di poter condividere queste riflessioni che vi proporrò con molti colleghi che sono impegnati nell'insegnamento della storia, nelle scuole superiori, un impegno assai oneroso ma di grande valore pedagogico e culturale, e tramite loro con gli studenti. Come diceva Duccio nell'introduzione, il tema di questa mia lezione è quello, si diceva un tempo, delle cause della prima guerra mondiale, delle origini della prima guerra mondiale. Innanzitutto vorrei sottolineare un aspetto, vorrei sottolineare il valore di tornare sulla prima guerra mondiale, o forse meglio di insistere sulla prima guerra mondiale, perché più ci allontaniamo dagli eventi della prima guerra mondiale, più essi appaiono chiaramente come il vero tornante dell'età contemporanea, come l'evento che in qualche modo ha segnato più di altri il corso della storia nell'età contemporanea. Infatti nella grande guerra, come fu chiamata da coloro che la vissero, convergono quelli che sono i fattori che caratterizzano e qualificano l'età contemporanea come un'età diversa da quelle precedenti. La nazione, quale principio attorno al quale venivano a riconfigurarsi la politica, gli stati, la geopolitica, la cultura, l'industrializzazione, la società di massa, i processi di mondializzazione. Ebbene, questi quattro fattori, questi quattro fenomeni in qualche modo convergevano nella guerra e trasformarono la guerra, rendendo quella guerra una grande guerra e soprattutto un nuovo tipo di guerra, la guerra moderna, una guerra mondiale appunto, una guerra di massa, una guerra industriale e tecnologica, una guerra totale. E la guerra, con la sua forza distruttiva e la sua capacità di pervadere la società, svolse la funzione di acceleratore di questi processi in modo tale da renderli irreversibili e capaci di pervadere l'intero mondo. Ma, data questa premessa, veniamo a quello che è il tema vero e proprio della lezione. Una guerra inevitabile? Come e perché è scoppiata la prima guerra mondiale? Come sapete, questo è il titolo della lezione. La riflessione parte da tre convinzioni che sono divenuti in qualche modo dei luoghi comuni, anche contraddittori l'uno con l'altro, e luoghi comuni e convinzioni che la storiografia ha messo in discussione negli ultimi due decenni in maniera più sistematica e che credo debbano essere rivisitati. La prima convinzione, o luogo comune, è che la guerra fosse uno sbocco inevitabile del crescere delle tensioni di conflittualità che si era venuto accumulando nei decenni precedenti nel contesto europeo. La seconda convinzione divenuta luogo comune era che la responsabilità della crescita, della tensione nei decenni precedenti allo scoppio della guerra e dello scoppio stesso del conflitto fosse della Germania. Il terzo luogo comune frutto di una convinzione condivisa è che l'attentato di Sarajevo del giugno del 1914 non fosse altro che un casus belli, cioè un pretesto per dare l'inizio a una guerra che era già stata decisa, che era scritta. In qualche modo le scelte dei decisori all'indomani del 28 giugno fino al primo agosto furono in parte obbligate o comunque irrilevanti per un scenario già definito. Questi tre luoghi comuni, come dicevo, necessitano di essere messi in discussione e di arrivare a una consapevolezza che se non ribalta completamente queste convinzioni, ma le rende più complesse, più problematiche, più articolate. Il tema delle cause della Prima Guerra Mondiale è un tema che ha conosciuto una produzione storiografica ingente, è un tema che è iniziato già a livello della polemica e della propaganda durante gli anni stessi della guerra, laddove i contendenti si attribuivano l'uno all'altro la responsabilità per l'inizio della guerra. È stato un dibattito che è stato condizionato e finalizzato a trovare il colpevole o forse meglio a dare conferme della sentenza che era stata scritta ed era stata scritta nel modo più autorevole possibile, cioè dal Trattato di Versailles che nel 1919 concludeva la guerra e stabiliva le condizioni della pace con la Germania. Un articolo del Trattato, il Trattato è un trattato molto ampio, con tantissimi articoli, e l'articolo 231, celebre articolo, attribuiva la colpevolezza della guerra alla Germania. Lo potete leggere. I governi alleati associati dichiarano, e la Germania riconosce, che la Germania e i suoi alleati sono responsabili per esserne stati la causa di tutte le perdite e di tutti i danni subiti dai governi alleati associati e dai loro cittadini in conseguenza della guerra che è stata loro imposta dall'aggressione della Germania e dei loro alleati. La storiografia si è sulle cause e le origini della Prima Guerra Mondiale sostanzialmente si è mossa sul solco tracciato da questo articolo. fino dagli anni 20, anni 30, quando si confrontarono gli accademici tedeschi con gli storici francesi, gli uni che volevano contraddire e controbattere quanto era stabilito da quest'articolo del Trattato di Versailles dicendo che la colpa non era tutta della Germania, gli altri invece che volevano supportare quella che era stata la sentenza di questo articolo. Ma non solamente una storiografia che in qualche modo aveva la funzione di sostenere la causa dell'un paese o dell'altro sull'arena internazionale si confrontò con questo problema. Basti citare alcune importanti opere. In Italia nel 1943 uscì postumo un importante lavoro di Luigi Albertini. Luigi Albertini era stato il grande direttore del Corriere della Sera, colui che non aveva fondato ma aveva inventato il Corriere della Sera come il principale organo di stampa dell'Italia e che aveva fatto una campagna a favore dell'intervento dell'Italia in guerra. Luigi Albertini scrive un libro che viene pubblicato postumo nel 1943 sulle origini della Prima Guerra Mondiale. Un libro importante, pieno anche di analisi acute, ma che aveva anche questa chiave interpretativa di fondo. La responsabilità della guerra fin da quello che era avvenuto nei primi anni del Novecento era da attribuire alla Germania. Nel 1961 un altro storico, in questo caso uno storico tedesco, uno storico che portava avanti posizioni storiografiche che si ispiravano alla tradizione della socialdemocrazia tedesca, Fritz Fischer pubblicò un libro molto importante che suscitò un grande dibattito che fu pubblicato anche in traduzione italiana e il titolo lo dò in traduzione italiana Assalto al potere mondiale. E Fischer anche attribuiva la piena responsabilità alle classi dirigenti tedesche che a suo parere avevano cercato appositamente la guerra anche per risolvere le questioni interne e soprattutto quelle legate al crescente conflitto sociale che si stava acutizzando nella Germania. Da un altro punto di vista uno studioso britannico Alan John Percival Taylor sempre nel 61 in un libro anch'esso molto importante dell'origine della prima guerra mondiale pur sulla base di un'analisi non centrata sulle dinamiche della politica interna tedesca ma sulle dinamiche della politica internazionale indicava come colpevole la Germania. compito della ricerca storica non è forse in primo luogo quello di indicare chi sia il colpevole chi sia il buono e chi sia il cattivo ma quello di comprendere di comprendere come sono avvenuti gli eventi della storia e in questo senso il passaggio di approccio alle origini alle cause della prima guerra mondiale passaggio di approccio da una domanda tutta fondata sul perché e su chi fosse il colpevole a un'altra domanda a una domanda invece basata sul come si fosse arrivati alla guerra questo cambiamento di approccio credo che abbia aiutato a comprendere in maniera più ampia più profonda e più complessa quello che sono state le dinamiche del processo che ha condotto allo scoppio della grande guerra. In questo senso un libro molto importante pubblicato nel 2012 è il libro di Christopher Clarke che nella sua edizione originale titolato The Sleepwalkers nella sua traduzione italiana I sonnambuli come l'Europa arrivò alla grande guerra e Clarke ricostruisce sostanzialmente il processo che porta allo scoppio della prima guerra mondiale identificando la questione di quello che lui chiama era un sonnambulismo cioè una inconsapevolezza delle classi dirigenti europee che costituì un elemento decisivo perché l'Europa e con essa il mondo precipitasse nel grande conflitto della prima guerra mondiale. Allora quello che vorrei provare a fare con voi in questa lezione è cercare di comprendere o quantomeno di dare alcuni dei tratti del processo che condusse alla guerra e in questa analisi del come si arrivò alla guerra credo si riescano anche a mettere a fuoco quali siano state le cause nella consapevolezza che i processi storici non sono mai monocausali non hanno mai un'unica causa ma sono sempre il prodotto di un intreccio complesso di cause. Il primo quadro che vorrei proporvi in questo senso è quello della necessità di allargare lo sguardo lo sguardo per comprendere le cause della prima guerra mondiale è sempre stato uno sguardo centrato sulle dinamiche del continente europeo ma questo sguardo è uno sguardo che non riesce a mio parere a cogliere tutte le dinamiche di quella fase storica che precede la prima guerra mondiale la stessa guerra infatti bisogna allargare lo sguardo allargare e superare una prospettiva che viene solitamente definita eurocentrica e allargare lo sguardo al mondo certo allargare lo sguardo al mondo vuol dire allargarlo a un'epoca quella che più o meno inizia con la metà dell'ottocento e arriva fino alla prima guerra mondiale in cui l'Europa è stata al centro del mondo forse è l'unica fase della storia che noi potremmo caratterizzare con questa centralità europea diversi furono gli elementi che determinarono questa condizione innanzitutto l'industrializzazione la seconda metà dell'ottocento è la fase storica in cui il processo di industrializzazione attraverso quella che gli storici dell'economia chiamano sebbene la mettano come denominazione anche in discussione seconda rivoluzione industriale il nuova connessione tra ricerca scientifica e innovazione tecnologica porta a un salto qualitativo delle capacità produttive dei sistemi economici e anche a un salto di scala quantitativa l'industrializzazione ha tra le sue conseguenze se non la nascita il potenziamento di un sistema economico mondiale dell'economia mondiale ma anche favorisce le interconnessioni del mondo che sono le interconnessioni infrastrutturali quelle delle ferrovie o quelle delle rete telegrafiche o delle rotte navali potenziate dai nuovi navigli con scafi in ferro e motori a vapore in questo contesto si afferma un centro europeo egemonico su scala globale un centro europeo egemonico sicuramente per il potenziale economico e finanziario che si concentrava in Europa e anche per la nuova ondata di espansionismo europeo che porta alla conquista e colonizzazione di nuovi territori in Africa in Oceania in Asia da parte delle potenze europee è il fenomeno che noi solitamente siamo soliti definire come imperialismo in questo contesto bisogna tuttavia notare che sì l'Europa si pone al centro del mondo ma compaiono già da questa fase dei competitori e in modo particolare gli Stati Uniti d'America nuova grande potenza industriale e sempre più potenza geopolitica e nell'estremo oriente un paese che conosce un processo rapidissimo di modernizzazione accelerata come il Giappone insomma l'Europa si pone al centro del mondo un'Europa di imperi perché molti degli stati europei sono degli imperi l'impero sono i grandi imperi continentali l'impero asburgico dal 1867 impero austro-ungarico l'impero russo la nuova o stato nazionale tedesco si autodenomina impero il secondo reich ma anche gli altri paesi sono dei paesi che hanno le caratteristiche di imperi di imperi coloniali in primo luogo l'impero britannico ma anche la Francia anche paesi più piccoli come l'Olanda o il Portogallo e anche il Belgio avrebbe avuto o l'Italia un loro impero coloniale la partita di questa fase era quella della capacità dell'Europa di conquistare il mondo e di governarlo e la posta in gioco era il futuro del continente europeo che cosa avviene in questo passaggio avviene la formazione di nuovi assi della politica internazionale cioè si passa da una visione incentrata sull'equilibrio tra le potenze europee qual era stata la concezione che aveva governato non solamente da Westfalia a metà del Seicento ma più in maniera più vicina ai nostri avvenimenti dal congresso di Vienna fino alla fine fino agli anni 90 dell'Ottocento era questa la concezione sulla base della quale erano state governate le relazioni tra le potenze in Europa si passa appunto da una visione incentrale sull'equilibrio delle potenze europee il vero obiettivo doveva essere quello dell'equilibrio tra le potenze a una concezione fondata sulla lotta per il potere mondiale su chi dovesse prevalere riguardo alla partita della egemonia a livello mondiale del potere mondiale e questo passaggio rendeva le relazioni internazionali per molti versi ingovernabili perché guardate non era solamente l'applicazione delle logiche della politica europea dell'equilibrio tra le potenze su scala mondiale era un quadro più complesso che influiva su quello europeo e che aveva un sé in presupposti di un ridimensionamento dell'Europa stessa in questo senso le questioni europee alla luce di questo allargamento di orizzonti della politica internazionale vanno comprese in un orizzonte più ampio faccio un esempio tornando un attimo indietro nel tempo dopo la morte di Bismarck si assiste a quello che è chiamato la politica del riallineamento cioè l'equilibrio che Bismarck aveva garantito tra le potenze europee in Europa viene rimesso in discussione e uno dei primi passaggi del riallineamento delle potenze europee e quello dell'alleanza franco-russa del 1894 la lettura consolidata e tradizionale del significato di questa nuova alleanza franco-russa è una lettura tutta spesa in funzione antigermanica la Francia e la Russia si alleano per cautelarsi da parte di fronte una possibile aggressione da parte tedesca ma non era solamente questo il significato di quell'alleanza perché quell'alleanza va letta anche nella prospettiva mondiale in cui le potenze europee si pensavano ed aveva una valenza anti-britannica laddove la Francia conosceva una competizione con l'Inghilterra in Africa e la Russia conosceva una competizione con la Gran Bretagna da lungo tempo nel grande ed esteso continente asiatico quindi dicevamo l'Europa al centro del mondo l'espansione imperialista ha la sua manifestazione direi emblematica in quella che viene chiamata la lotta the scramble for Africa la lotta per l'Africa cioè nella spartizione del continente africano avviene una spartizione di minore rilevanza ma anche essa spartizione nelle isole del Pacifico tra le potenze europee bene le potenze europee nell'arco di 30 anni ridisegnano lo spazio europeo un intero continente un intero continente in 30 anni viene occupato da potenze esterne con due sole eccezioni nel 1900 diciamo diamo il 1912 come anno conclusivo di questa spartizione che si conclude sostanzialmente con la guerra italo-turca e la conquista italiana della tripoletana della Cirenaica cioè della Libia e il protettorato francese in Marocco bene nel 1912 solo due stati in Africa mantenevano la loro indipendenza la Liberia e l'Etiopia tutto il resto del continente era stato spartito tra Inghilterra lungo l'asse nord-sud della costa est dell'Africa dall'Egitto al Sud-Africa ma anche con presenze significative di colonie inglesi nel Golfo di Guinea soprattutto al delta del Niger la Nigeria l'Africa dall'Africa occidentale fino all'Africa centrale ma poi il Congo presso dai Belgi le colonie portoghesi che resistevano fin dal Cinquecento il Mozambico l'Angola la Guinea Bissau le isole di Capoverde la Germania in Tanganyika cioè la parte continentale dell'odierna Tanzania in Rwanda e Burundi nell'Africa di sud-ovest l'attuale Namibia in Togo in Camerun e poi l'Italia in Eritrea in Somalia e poi nella Libia ma in Africa si consumò come sappiamo una rivalità tra Inghilterra e Francia che ebbe il suo apice nell'incontro tra soldati francesi e soldati britannici provenienti da due direttrici diverse nell'attuale Sudan a Fashoda che poteva tramutarsi in uno scontro e che poi invece provocò un accordo del 1899 tra Inghilterra e Francia per la spartizione delle aree di controllo in Africa ma non era solo l'Africa il territorio in cui questa espansione europea nel mondo si era consumata abbiamo l'Asia in Asia va ricordato quello che è passato alla storia come il Great Game tra Russia e Inghilterra cioè questa lotta tra le due potenze per esercitare l'influenza su una vasta fascia di territorio che partiva dalle propaggini orientali dell'impero ottomano in Mesopotamia a sud del Caucaso e attraverso la Persia e l'Afghanistan arrivava all'India ma proseguiva anche in Estremo Oriente verso la Cina occorre tener presente che il grande competitor dell'Inghilterra dell'impero britannico nell'Ottocento non fu certamente la Francia la rivalità con la Francia era molto limitata alla questione africana il vero grande competitor era l'impero russo l'impero russo che nell'Ottocento conosce un'ulteriore importante espansione in Asia la Russia entra in Asia negli anni Ottanta del Cinquecento quando varca gli Urali ma nell'Ottocento si estende nel Caucaso conquista sia il versante nord che il versante meridionale del Caucasus cioè quello che corrisponde oggi alla Georgia all'Armenia all'Azerbaijan rafforza la sua posizione nell'estremo oriente soprattutto a ridosso della Cina e della Manciuria e poi negli anni Sessanta Sessanta dell'Ottocento conquista il Turkestan quella che chiamiamo Asia Centrale corrispondente agli attuali paesi ex-sovietici del Turkmenistan Kazakistan Uzbekistan Kirghizistan e Tajikistan bene su questo fasci terreno c'è una grande competizione tra Inghilterra e Russia soprattutto concentrata su chi dovesse esercitare la influenza sulla Persia e sull'Afghanistan e poi c'era l'estremo oriente l'estremo oriente asiatico dove vi erano itinerari di colonizzazione più antichi soprattutto l'Inghilterra in India in Birmania in Malesia o l'Olanda nelle Indie olandesi cioè quella che è oggi l'Indonesia ma poi la Francia nell'Ottocento colonizza la parte più orientale dell'Indocina corrispondente al Vietnam alla Cambogia e al Laos di oggi ma e poi soprattutto vi era la grande questione cinese quella Cina che all'inizio dell'Ottocento si trovava a un livello pari più o meno a quello dell'Europa occidentale i PIL della Cina e dell'Europa occidentale equivalevano e poi conosce dal punto di vista economico la grande divergenza cioè il grande sviluppo dell'Europa occidentale e invece il declino della potenza cinese quella Cina che l'Ottocento era stata fortemente indebolita dalle due guerre dell'Oppio volute dall'Inghilterra quella Cina a cui le potenze europee guardavano per una sua divisione in sfere di influenza ma lì nell'Estremo Oriente vi erano anche nuovi protagonisti innanzitutto si presentavano gli Stati Uniti con un nuovo profilo mondiale tre date nel 1869 viene portata a termine la prima linea ferroviaria dalla East Coast alla West Coast da New York a San Francisco gli Stati Uniti passano da una gravitazione esclusivamente atlantica a una crescente importanza dell'orizzonte dell'Oceano Pacifico nella sua politica 1898 la guerra ispano-americana per l'indipendenza dell'ultima colonia spagnola Cuba che avrebbe avuto come conseguenza per gli Stati Uniti l'acquisizione del controllo su Filippine Porto Rico le isole di Guam che insieme alle Hawaii acquistate nello stesso periodo continuano a proiettare sempre più gli Stati Uniti verso l'Asia e l'Estremo Oriente e poi nel corso fino agli anni dieci del novecento il lavoro per il taglio dell'istimo di Panama e il canale di Panama che potenzia la forza navale degli Stati Uniti ma un altro grande protagonista emerge in quel estremo oriente asiatico non europeo il Giappone il Giappone delle Tameji è il Giappone che conosce questa modernizzazione accelerata nella filosofia riassunta nello slogan spirito giapponese sapere occidentale una traduzione nipponica della modernizzazione e soprattutto della modernizzazione industriale ma che si accompagna a un protagonismo espansionista del Giappone che mette definitivamente in crisi il sistema sinocentrico dell'architettura geopolitica dell'Estremo Oriente con la guerra sino-giapponese del 1894 1895 e poi si afferma addirittura destando scalpore a livello globale contro una grande potenza europea nella guerra russo-giapponese del 1904 1905 ho voluto dare questi quadri per dire che non possiamo non collocare i processi che portano alla seconda la prima guerra mondiale scusatemi dentro questo orizzonte allargato che è un orizzonte in cui che cambia anche la visione che le potenze europee hanno della loro collocazione internazionale della loro politica estera non è più l'obiettivo quello di garantire la sicurezza del proprio paese in un gioco di equilibri tra potenza ma la partita la questione in gioco era quella della collocazione del proprio paese nel mondo ciò determinava una impostazione necessariamente più conflittuale delle relazioni cioè era cambiato il livello della posta in gioco non più la sicurezza ma ci si giocava il futuro in questa lotta per il potere mondiale questa era la convinzione che animava le classi dirigenti la logica della politica mondiale la logica di affermare una egemonia a livello mondiale in qualche modo conduceva allo scontro finale e alla necessità di eliminare i competitori spingendo a relazioni piuttosto che di tipo paritario come erano quelle dell'equilibrio europeo a relazioni di tipo gerarchico a relazioni piuttosto che collaborative per garantire una sicurezza comune di tipo antagonistico tale orientamento provoca la riconfigurazione dello scenario europeo attorno a due blocchi di alleanze vedete in queste cartine la cartina superiore sta ad indicare il sistema di alleanze che garantiva l'equilibrio europeo nel periodo di smarchiano quello tra il 1870 e il 1890 con una serie di alleanze che avevano il loro fulcro nella Germania la triplice alleanza il patto dei tre imperatori e con lo scopo di isolare la Francia e invece nella cartina inferiore potete vedere come si riconfigura all'inizio del novecento il quadro delle relazioni tra le potenze europee attorno a due blocchi la triplice intesa Parigi Londra San Pietroburgo impero russo impero britannico e Francia e la triplice alleanza Berlino Vienna Roma l'Italia l'impero austro-ungarico e la Germania va segnalato un elemento che ci collega a quanto detto prima le condizioni per cui si possa venire a creare la triplice intesa sono date sono date non tanto dalle considerazioni relative all'equilibrio europeo ma dalle esigenze della politica mondiale sì perché Russia Gran Bretagna e Francia nella politica mondiale mettevano in gioco interessi vitali per i loro paesi a differenza di Germania Austria e Italia e quindi come si viene a creare questa alleanza sì c'era l'alleanza franco-russa dal 1894 ma c'è dopo l'accordo sull'Africa tra Inghilterra e Francia nel 1904 l'intente cordiale cioè questa intesa tra Inghilterra e Francia che segna una nuova stagione dei rapporti tra le due potenze e poi nel 1907 c'è un accordo anglo-russo che regola quella che era la grande competizione tra i due paesi come abbiamo visto nel Great Game sull'influenza nei paesi dell'Asia centrale in Perse in Afghanistan è la risoluzione di queste questioni della politica mondiale che permette la formazione della triplice intese che cosa vuol dire la formazione di questi due blocchi ma vuol dire una polarizzazione del quadro europeo ci sono due blocchi contrapposti due blocchi contrapposti tra i quali si sviluppa una reciproca diffidenza e una sostanziale incommunicabilità la mancanza di comunicazione trasparente anche se la comunicazione tra paesi non alleati ma concorrenti ma una comunicazione trasparente e affidabile la mancanza di comunicazione è un dato da non trascurare per comprendere i processi che portano allo scoppio della guerra questa contraposizione dei blocchi conduce anche a una militarizzazione della politica europea una militarizzazione che è innanzitutto una corsa riarmo un grande investimento finanziario dei governi per potenziare gli apparati militari investimenti che sono dovuti a questa logica di contraposizione dei blocchi ma anche al fatto che le innovazioni tecnologiche permettono di produrre armi sempre più micidiali sempre più distruttive e elemento non secondario questa militarizzazione conduce anche a un accresciuto ruolo dei militari nella politica in questo contesto nel continente europeo c'è un quadrante particolarmente caldo questo è noto sono i Balcani la vicenda balcanica diviene è una vicenda che è incendiaria fin dagli anni 30 dell'ottocento ma ritorna a essere di primaria rilevanza e un'area di crisi nel 1908 nel 1908 in l'impero ottomano c'è un pronunciamento quella che viene chiamata l'abriazione dei giovani turchi è un tentativo di favorire una modernizzazione politica dell'impero ma è anche un segnale di crisi di debolezza di cui approfittano in un primo momento la Bulgaria che dichiara pienamente e formalmente la propria indipendenza e poi nell'ottobre sempre nell'ottobre del 8 avvengono questi eventi l'impero austro-ungarico dichiara l'annessione unilaterale della Bosnia e Herzegovina che il congresso di Berlino nel 1878 aveva affidato all'amministrazione di Vienna questo atto unilaterale di Vienna preparato anche dal puntista diplomatico in maniera approssimativa fa crescere fortemente la tensione nei Balcani a livello europeo in Russia è considerata la Russia che era come sapete la rivale dell'impero austro-ungarico per l'influenza sui Balcani considera questa annessione un'umiliazione e l'opinione pubblica si radicalizza ritiene che non si potrà più ripetere un atto di questo genere che è stato un atto umiliante per la Russia ma anche l'annessione della Bosnia e Herzegovina e la crisi diplomatica che ne consegue mostra come si inneschi una logica nei Balcani di contrapposizione tra il blocco austro-tedesco e quello franco-russo il 1908 è anche un momento importante a livello europeo perché è un impulso alla radicalizzazione dei nazionalismi dalla Russia lo dicevo prima all'Italia dove la crisi del 1908 è una sorta di innesco a un processo di coagulazione delle correnti nazionaliste in un movimento politico vero e proprio dalla Bulgaria alla Serbia quella Serbia che fino ad allora aveva rivolto il suo nazionalismo verso la Macedonia territorio contesto tra serbi bulgari e greci fino ad oggi alla Bosnia la Bosnia divenne il nuovo focus del nazionalismo serbo ed era un focus che aveva un'inevitabile valenza anti-austriaca e nello stesso tempo si strinse la connessione russo-serba la Russia era stata incerta se fino ad allora se appoggiare i bulgari o i serbi che erano tra di loro in conflitto ma nel 1908 c'è un'evidente scelta per un asse serbo-russo i Balcani continuano a essere un focolaio di tensioni e lo sono in maniera molto evidente nel biennio 1912 1913 sono le ripercussioni della guerra italo-turca la guerra di Libia per conquistare la Libia l'Italia di Giolitti dichiara guerra all'impero ottomano perché la Tripolitana e la Cirenaica sebbene lontani da Istanbul erano delle province ottomane a tutti gli effetti l'invasione del Dodecanneso l'occupazione e poi la pace di Ushin nel 1912 sono un colpo all'autorevolezza dell'impero ottomano e un suo indebolimento decisivo così come risultò evidente che l'Inghilterra che aveva dato il suo benestare all'operazione italiana e non era intervenuta l'Inghilterra aveva abbandonato quella che era stata una linea politica di lunga durata cioè quella di essere garante dell'integrità dell'impero ottomano non era più una priorità perché l'apertura del canale di Suez e il controllo dell'Egitto avevano ridotto notevolmente l'importanza dell'impero ottomano per la sicurezza delle vie verso l'India scoppiano così due guerre balcaniche nel 1912 la prima in cui una lega balcanica di Serbia Bulgaria Montenegro e Grecia combatte contro l'impero ottomano per espellere definitivamente l'impero ottomano dalla penisola balcanica e poi nel 1913 una seconda guerra perché i vincitori della prima guerra balcanica non si mettono d'accordo tra di loro e quindi Serbia Grecia e Romania combattono contro la Bulgaria che cosa ci interessa di queste due guerre balcaniche innanzitutto che si assiste a una riconfigurazione degli equilibri balcanici si consolida ulteriormente l'asse russo-serbo esce di scena l'impero ottomano dei Balcani gli austriaci risultano isolati e insidiati dai nazionalismi che sono i nazionalismi che hanno un riflesso interno alla compagine asburgica perché gli slavi del sud presenti all'interno dell'impero croati sloveni e anche delle emirranze serbe sono molto sensibili ai nazionalismi che soprattutto in Serbia vanno crescendo quella Serbia che esce dalle guerre balcaniche come il paese più potente dei Balcani meridionali e quello che ha più acquisizioni territoriali dopo la prima guerra mondiale e infine la Francia contempla ciò che non aveva fatto fino ad allora nei suoi piani strategici la possibilità dell'intervento per questioni balcaniche siamo alla vigilia del 1914 questo è il quadro a cui dobbiamo aggiungere questo fenomeno di radicalizzazione dei nazionalismi e del crescente militarismo di cui abbiamo già parlato ma anche la diffusione di correnti culturali che guardano sebbene minoritarie ma influenti nel determinare gli orientamenti dell'opinione pubblica che guardano la guerra come a qualcosa di atteso come a un evento positivo che avrebbe rigenerato società stanche e quando a livello culturale si comincia a riabilitare la guerra non è senza conseguenze nelle stesse dinamiche dei processi internazionali arriviamo al giugno del 1914 e arrivo rapidamente alla conclusione mi scuso se ho parlato troppo a lungo il 28 giugno del 1914 come è noto a Sarajevo un militante nazionalista serbo aderente a una società segreta la mano nera nazionalista e guidata da ambienti militari serbi uccide in un attentato l'arciduca Francesco Ferdinando e la consorte l'arciduca era l'erede al trono dell'impero austro-ungarico ciò che avviene tra il 28 giugno del 1914 e il 28 luglio quando l'Austria dichiara la guerra o il 1 agosto quando sostanzialmente con la dichiarazione di guerra della Germania la Russia inizia la guerra generale non era uno scenario già scritto nel senso che le scelte che compiono i decisori in quel mese sono delle scelte importanti che hanno orientato in un modo o nell'altro il corso degli eventi la Serbia non voleva la guerra il governo era estraneo ma dentro la Serbia c'erano circoli militari e nazionalisti incontrollabili e la Serbia era la vigilia di elezioni politiche e la propaganda politica giocava fortemente sull'elemento nazionalista ciò che non permetteva al governo di seguire una linea moderata l'Austria era abbastanza risoluta a dare una risposta dura e forte alla Serbia era pronta alla guerra ma una guerra limitata contro la Serbia la Germania appoggia l'Austria appoggia l'Austria e la spinge a una radicalizzazione della posizione sulla bassa di una convinzione fallace la convinzione che la Francia e la Gran Bretagna probabilmente sarebbero rimasti fuori che gli scenari possibili erano quelli o di una guerra solo con la Serbia o di una guerra solo con la Serbia e la Russia la strategia tedesca era quella di un rischio accettabile che bisognava correre ma era basata su valutazioni errate è questa la responsabilità principale della Germania in questa fase e sulla base di queste valutazioni la Germania spingeva l'Austria un ultimatum l'Austria era tentennante ma Francesco Giuseppe viene convinto all'ultimatum soprattutto dalla sprezza delle prese di posizione serbe condizionate dalle esigenze della campagna elettorale il 23 luglio come sappiamo l'Austria consegna l'ultimatum alla Serbia la Serbia ha 48 ore di tempo per rispondere quelle che sembrano condizioni inaccettabili sono quelle che vanno a violare la sovranità serba laddove l'Austria richiede la presenza di organi di polizia austriaci per la repressione dei movimenti nazionalisti e per le indagini alla ricerca dei colpevoli dell'attentato la Gran Bretagna che fino ad allora era stata osservare fa un tardivo intervento per una mediazione proprio in una conferenza internazionale ma non la propone direttamente all'Austria la propone a Berlino ritenendo che l'Austria non sia molto di più di un cliente della Germania la Germania non è del tutto contraria della conferenza internazionale e l'Austria rifiuta la proposta anche perché si sente umiliata dal fatto che non è stata direttamente interpellata la Germania continua a pensare che l'Inghilterra sarebbe restata fuori dalla guerra anche perché Londra non si esprime chiaramente non comunica chiaramente quella che era la sua intenzione nel caso di uno scenario dello scoppio di una guerra probabilmente anche perché a Londra non si era presa la decisione finale si arriva così al 28 luglio l'Austria dichiara la guerra il governo russo dichiara la mobilitazione parziale solo a quel punto la Russia scusate l'Inghilterra dichiara che non sarebbe rimasta neutrale Berlino Berlino cerca di convincere Vienna a un accordo con la Russia ma il 30 luglio Nicola II dichiara la mobilitazione generale a quel punto il meccanismo è quasi inarrestabile Berlino lancia l'ultimatum alla Russia di fare un passo indietro e di rinunciare alla mobilitazione generale e allo stesso tempo lancia un ultimato alla Francia intimandole di restare neutrale in caso di guerra con la Russia c'è un'accelerazione tedesca che è dovuta alla spinta dei militari perché i militari hanno un piano da realizzare il cosiddetto piano Schliffen messo appunto da un stratega un generale tedesco negli anni precedenti sulla possibile guerra su due fronti piano che prevedeva il fatto che nel giro di 40 giorni bisognava eliminare la la minaccia francese sconfiggendo la Francia per potersi poi rivolgere al fronte orientale contro la Russia che avrebbe appunto impiegato 40 giorni per mobilitare il suo esercito date anche le distanze del paese il primo agosto la Germania di guerra guerra alla Russia il 3 agosto la Germania dando seguito al piano Schliffen viola la neutralità del Belgio e invade il Belgio dichiarando contemporaneamente guerra alla Francia il 4 agosto il Regno Unito dichiara guerra alla Germania è la guerra generale la guerra generale che arriva alla fine di un mese in cui si assistono a reazioni e controreazioni di una crisi in assenza di una lucida consapevolezza degli scenari realisticamente possibili assenza nelle classi dirigenti e soprattutto in un ristretto gruppo di decisori che conta in quelle settimane errori di valutazione opacità nelle comunicazioni tra le potenze contribuiscono alla scelta di una strategia del rischio che innesca un meccanismo che va ben oltre gli scenari che gli attori si erano raffigurati e conduce a una guerra generale probabile ma non inevitabile grazie della vostra attenzione e mi scuso per la lunghezza grazie al professor Cucci grazie Adriano per questa lezione davvero importante i commenti che abbiamo raccolto che sono arrivati e le domande che sono arrivate dai docenti che hanno seguito la lezione sono molti bisognerà fare una scelta perché abbiamo ancora tempo ma non vogliamo abusare né delle ascoltatrici e ascoltatori che ci stanno seguendo né del tuo tempo naturalmente una domanda che evidentemente segnala un interesse da parte di chi ha seguito la tua lezione e che riassume un poco come dire l'interesse per la storiografia alle interpretazioni storiografiche sono stati fatti i nomi di Clark di Ferguson Adriano mirolo della Serbia eccetera allora la domanda è questa te la leggo ma insomma fa riferimento a Eric Hobson chiede una docente che ti ha seguito un tuo parere sostanzialmente naturalmente sempre in una logica di scuola sull'uso di Hobson per affrontare il novecento naturalmente la tua lezione era su un momento specifico del novecento ma insomma credo che sia un po' come dire l'interesse generale dei docenti a usare correttamente ed estensivamente fonti e autori di storiografia rispondo a una domanda per volta una domanda per volta vediamo un po' quanto tempo riusciamo allora l'opera astrografica di Eric Hobson come sapete è imponente importantissima anche in questo percorso che lui fa dall'età delle rivoluzioni settecentesche fino alla fine della guerra fredda alla fine del novecento sulla interpretazione di Hobson del novecento il secolo breve passato diciamo la sua fama è anche in questa formula credo che l'uso didattico penso sia importante possa essere di utilità tenendo presente due elementi uno che il secolo breve non si comprende senza il secolo lungo cioè il breve novecento non si comprende senza il lungo ottocento ed è proprio lo snodo di connessione dato dalla grande guerra e della prima guerra mondiale ma d'altronde l'itinerario stesso dell'opera di Hobson è lungo questo percorso del lungo ottocento fino al secolo breve in questo senso credo che Hobson abbia ragione a ritenere la grande guerra il nodo centrale per la comprensione del novecento l'altro elemento da tenere presente in diciamo in funzione cautelativa ma non cautelativa da pericoli ma come ogni lettura e ogni interpretazione è un'interpretazione necessariamente che ha un suo angolo di visuale un suo punto di vista e che può sacrificarne altri è che la lettura del secolo breve è una lettura molto centrata sulle vicende dei totalitarismi la centralità della vicenda della rivoluzione del 17 della storia del comunismo che è evidentemente una delle grandi eventi dei grandi fenomeni del novecento o dei totalitarismi fascista e nazista anche se non sono categorie propriamente obbsbomiane laddove invece credo che sebbene questi fenomeni siano centrali la lettura del novecento debba avere una maggiore ricchezza di articolazione laddove nonostante alcune premesse il rischio di questa lettura è quella di perpetuare un approccio eurocentrico il grande fenomeno della decolonizzazione ad esempio è un fenomeno che non può essere secondario nella lettura del novecento così come secondario nella lettura del novecento non può essere il ruolo che ha avuto che hanno avuto gli Stati Uniti d'America dal punto di vista politico ma dal punto di vista economico e culturale così come e finisco con questo due fenomeni che in qualche modo sono messi un po' in ombra dalla lettura di Hobsbawm il primo è il perdurare del fenomeno del nazionalismo come un fenomeno determinante delle dinamiche storiche dell'età contemporanea Hobsbawm scrive nell'89 un libro che è sul nazionalismo che si conclude sostanzialmente dicendo che il nazionalismo è un residuo di un passato che va a scomparire in realtà noi poi sappiamo come negli anni novanta del novecento ci sia un revival importante del nazionalismo così come l'altro elemento un po' in ombra è quello del ruolo delle religioni il paradigma della secolarizzazione cioè più modernità meno religione che è spesso stato alla base di molte opere storiografiche è un paradigma che viene rivisitato anche perché ciò che è avvenuto a questo livello nel mondo secondo alcuni studiosi a partire dalla fine degli anni settanta primo governo con partiti religiosi in Israele l'elezione di Karol Voitiwa a Vescovo di Roma rivoluzione islamica in Iran ci stanno a dire come le religioni non fossero e non siano dei fenomeni residuali ma che pur modificando la loro le modalità della loro presenza nella società dell'età contemporanea hanno continuato a giocare un ruolo importante questi elementi se potrebbero aggiungere anche altri per dire che quella lettura importante di Hobsbaw credo a livello anche didattico abbia bisogno di un arricchimento tenendo presente anche altri elementi altre due domande te le pongo insieme così proviamo a come dire cadenzare e darci un tempo una molto interessante riguarda i servizi segreti the secret world cioè chiede un'ascoltatrice ascoltatore i trattati erano patti segreti ma siamo sicuri questa è la domanda che i servizi segreti delle diverse nazioni fossero all'oscuro di tutto e la seconda che richiederebbe forse una lezione a parte se vuoi che pensiamo a una nuova lezione tua su quali elementi suggerisce di porre l'accento per uno sviluppo didatticamente adeguato per della domanda per l'Italia quindi nello specifico per l'Italia fu una guerra inevitabile va bene allora la prima domanda sì la diplomazia era una diplomazia segreta i patti erano patti segreti come sappiamo l'ingresso dell'Italia nella prima guerra mondiale nel maggio 1905 sulla base di un patto firmato a Londra nell'aprile del 15 con le potenze dell'intesa Inghilterra Francia e Impero Russo che era un patto segreto i servizi segreti che cominciano ad avere uno sviluppo importante nella storia dell'Ottocento il Great Game di cui parlavo prima in Asia Centrale tra Russia e Inghilterra e soprattutto una guerra di spie sebbene in una fase ancora un po' romantica romanzesca diciamo dei servizi segreti però evidentemente i servizi segreti avevano degli elementi gli uni degli altri diciamo gli uni dei patti segreti degli altri ma non completi perché in realtà la diplomazia in quella fase della storia e soprattutto i patti erano questione di cui si occupavano pochissime persone i decisori erano pochi le carte di quelle decisioni rimanevano in un ambito molto ristretto questo comportava chiaramente una maggiore una minore possibilità di avere canali di accesso o fughe di notizie la diplomazia segreta sostanzialmente finisce con la rivoluzione bolshevica una delle prime azioni che i bolshevichi decidono e realizzano è quella della pubblicazione dei cosiddetti libretti verdi e rossi cioè dalla cancelleria del ministero degli esteri imperiali traggono tutti i documenti segreti i patti segreti firmati dall'impero zarista e li pubblicano motivo per cui ad esempio il patto di Londra viene reso noto prima della fine della guerra ciò che mette in difficoltà l'Italia e anche gli altri paesi contraenti di quel patto e sostanzialmente l'Italia è spesata non sa portare avanti in maniera efficace la linea che difesse i propri interessi in un contesto che non è più quello della democrazia segreta ma è quello evidentemente del dibattito pubblico e della propaganda laddove i documenti segreti furono pubblicati certo con la fine della democrazia segreta non finiscono i segreti della politica internazionale chiamiamo così o gli aspetti riservati e anzi viene potenziato quello che è il ruolo e l'importanza dei servizi segreti a livello anche delle azioni internazionali paradosso ma come è noto una delle principali scuole di servizi segreti internazionali viene proprio sviluppata da quel regime che in nome della trasparenza di una diplomazia non più borghese ma rivoluzionaria aveva pubblicato i documenti dell'impero zarista ma che avrebbe dato vita a un'organizzazione di spionaggio internazionale di grande chiamiamola professionalità ecco quindi sicuramente è un discorso rilevante è un discorso non facile da comprendere e anche da studiare anche perché spesso la documentazione sui servizi segreti è una documentazione non accessibile ed è anche una documentazione che necessita di un seggesti particolare non facile ma io ritengo che non si riesca a comprendere la storia attraverso il buco della serratura dei servizi segreti è un elemento importante ma non è così decisivo la domanda sì la domanda credo che richiede un'altra lezione questo poi starà agli organizzatori ritenere se è necessario era inevitabile ma io credo di sì che fosse inevitabile in qualche modo non era facile trovare un percorso che la rendesse evitabile non era facile a livello soprattutto della politica internazionale anche della politica interna ma della politica internazionale date le logiche del tempo perché il vero problema della storia è sempre quello di mettersi nella testa degli altri di entrare nella testa degli altri e nel nostro caso nella testa dei decisori di quel tempo nelle logiche del tempo non era facilmente evitabile ma credo poi che voi che ascoltate siete maestri nel trovare le chiavi didattiche per rendere queste conoscenze fruibili dei vostri alunni io direi che possiamo fermarci qui il tempo è stato abbondantemente e proficuamente utilizzato io ringrazio moltissimo il professor questa bellissima lezione davvero importante ricordo a chi ancora ci ascolta ha avuto la pazienza di ascoltarci fino ad ora che la prossima lezione sarà il 23 novembre sarà una lezione di Emma Schiavone sulle donne nella prima guerra mondiale altro tema molto molto interessante e che ricordo ancora che la lezione sarà disponibile nel del professor Rucucci sarà disponibile a brevissimo nel canale youtube della casa editrice e per chi ha chiesto e sono tante le domande di approfondimenti bibliografici o di precisazioni bibliografiche dico di aspettare la scheda che accompagnerà le slide del professore ancora grazie Adriano ancora grazie professor Rucucci buonasera a tutte buonasera arrivederci a tutti arrivederci grazie a voi grazie a tutti Grazie a tutti.